Potrebbero rispondere di favoreggiamento due amici del 17enne che sabato notte ha aggredito Calogero Giardina di 24 anni riducendolo in fin di vita. Entrambi avrebbero in qualche modo aiutato il minore. Uno sarebbe stato presente al momento dell'aggressione, l'altro invece ha nascosto il cacciavite e la maglietta sporca di sangue. Disperate vengono definite da medici dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca le condizioni del 24enne. Il quadro clinico è notevolmente peggiorato. Abbiamo consultato la neurochirurgia di Villa Sofia, parlato con la dottoressa Tunghiolo che ci esprime la non operabilità del paziente. La gelosia sarebbe stato il movente del gesto folle messo in atto dal minore. Aveva scoperto che la sua ex fidanzata frequentava Giardina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due si sarebbero visti in un bar di Viale della Vittoria. Il più piccolo avrebbe invitato il rivale a seguirlo all'esterno del locale per un chiarimento. Una volta fuori è scoppiata la lite. Allontanati dal gestore, i due hanno continuato a darsele poco lontano in via Ettore Maiorana. È stato un attimo, il minore ha afferrato un cacciavite che teneva nel sottosella del suo scooter e ha colpito Calogero alla tempia, poi si è dato alla fuga. Mentre il 24enne veniva trasportato in ospedale, l'aggressore è stato rintracciato e fermato dai militari. Ha subito confessato facendo trovare il cacciavite ancora sporco di sangue. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e rinchiuso nel carcere Malaspina a Palermo. Per Calogero Giardina serve un miracolo, un segno divino. A quello si aggrappano gli amici su Facebook. Lui scriveva, il 2010 è andato, spero che il 2011 sia ancora meglio, ho così tanti sogni e spero si realizzino. Ma la realtà oggi è sempre diversa. La baccheca di Facebook del ragazzo è piena di frasi di dolore, di lacrime virtuali, di preghiera, ma soprattutto di tanta speranza.